Il 22 e il 23 maggio a Pescara ci saranno diverse iniziative racchiuse in un titolo di cosa siamo capaci nell'ambito del 31esimo premio Paolo Borsellino. Pescara sempre più punto di riferimento della legalità. Due giornate importanti, innanzitutto per ricordare il 23 maggio, quindi commemorare la strage di Capaci e chi perse la vita quel giorno. E in particolare partirà dal 22 perché il 22 ci sarà anche la firma del protocollo di intesa con tutti i referenti pescaresi che vorranno apporre la loro firma. È importante perché dopo la regione anche la città di Pescara riconosce questa importanza al premio Borsellino. Un'importanza che comunque ha sempre riconosciuto perché a Pescara siamo di casa. Due giorni importanti, quindi si partirà con questa firma del protocollo di intesa. Un concerto dedicato a Giovanni Falcone dove saranno protagonisti oltre a una strepitosa pianista che dedicherà alle vittime di mafia questo concerto, anche bimbi che leggeranno poesie e scritti. E poi il 23 maggio con le scuole per ricordare insieme, per non dimenticare quello che è stato affinché non si ripeta più. Tra gli eventi più attesi lo spettacolo teatrale Non fa paura, cura di Franca Berardi che si terrà al Circus il 22 maggio e la presentazione del libro. Siamo tutti capaci con l'intervento dell'autore Rosario Esposito che dialogherà con il giornalista Leono Dari. L'appuntamento è nella Sala Tinozzi della provincia di Pescara. Un'esperienza in grado di riportare i ragazzi alla dimensione etica della memoria. Un ricordo partecipato del sacrificio compiuto dai due magistrati. Il premio Borsellino già ci ha abituato a degli appuntamenti molto importanti quest'anno ancora di più con un grande impegno proprio a favore della legalità che coinvolge le istituzioni, coinvolge le scuole proprio perché il concetto di legalità sia il più esteso possibile rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Il 23 maggio si parlerà anche di buone prassi scolastiche. La serata conclusiva all'Aurum vedrà protagonista la concertista Maria Gabriella Castiglione. Di cosa siamo capaci? Noi siamo capaci di darci da fare, di dare il nostro piccolo contributo affinché insieme agli studenti, insieme alle istituzioni si possa camminare insieme.